ciao a tutti ragazzi e benvenuti ancora una volta in compagnia di metano alle built battle in team ciao a tutti vediamo un po che cosa riusciamo a combinare perché come sappiamo metano è veramente forte in queste build battle tantissimo ok siamo quasi pronti a partire vediamo un po che cosa ci propone i caraibi e allora mettiamo a fare un isoletta cosa dici tanto metti l'acqua metto subito l'acqua si allora come si fa prendo il secchio di acqua pesato secchio d'acqua e lo mette al posto della plot floor così ok perfetto adesso facciamo l'isoletta cosa dici e si andrebbe fatta l'isola con la sabbia grossa se ne fanno tante una e tante secondo me ne facciamo una centrale e poi una in giro ok ci mettiamo anche gli alberi aspetta prendo gli alberi quelli bellini si chiedono i jungle mi sembra di jungle 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 per le quali cosa si prende e quelle delle jungle si si per facciamo le palme giusto si 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 facciamo delle palme così ah ci sono anche noci di cocco volendo essi li possiamo mettere al posto del cielo possiamo usare come mini blocco darsi si poi non possiamo anche attaccarle sugli alberi ti guardo direttamente se ci sono i mini blocchi fatto cioè tipo le cose lì oppure bisogna prendere i bambini basso così ok questa è la prima isola ne facciamo almeno due direi no ok si si due magari una terza anche minuscola ora una cosa tech cos'è un frutto che si trova i chiaraibi che magari c'è pure qua e la canna da zucchero davvero e infatti ci sta possiamo fare quella qui ok allora io facciamo la giungle giungle jungle wood lo mettiamo una in mezzo così poi bisogna farla com'è un po così no la fai si tutta inclinata così no più inclinata più inclinata così sì 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 ecco così così e poi ci metti tipo ma forse ancora di più perché lo sai che alcune vanno quasi raso terra si è vero hai ragione ragione intanto che prendo anche i blocchi tipo marroni così ci possiamo fare vediamo se ci sta bene così dai che perfetto che adesso e le foglie come si fanno che non è no questo non è il jungle wood però si giangono questo qua giangono questo sì sì lo preso mettiamo un m ma perché sto ma vita queste e sono queste giangono ok come non detto allora secondo me bisogna fare un tipo di due così poi scende e si è ok riesce a farle ti all'incirca e sulle palme queste no sì 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 palme normale che poi vediamo qua così sì sì vabbè più o meno ci sta e poi guarda pensavo tipo di metterci così no 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 tec guarda che bello così con le cose qua giusto giusto mi sembra giusto ok aspetta metto ne metto un'altra così almeno facciamo un numero pari mettiamo una ogni lato questo non è male non è male abbiamo quattro minuti ancora noi abbiamo praticamente già finito quindi no vabbè lascia stare io ci metterei un villager qua da solo solitario facciamo tipo il villager col fuoco è ok assi il fuoco bisogna mettere come se fossi in un'isola deserta che te ne pare esatto il villager l'ho messo ok allora per il fuoco come per il fuoco potremmo fare tipo con un acciarino e mettere la netherrack sotto no ma se mettiamo della legna secondo te prende fuoco proprio no non resiste non si vede la netherrack aspetta la metto io tu metti l'acciarino ok allora accendi questo l'intestile eccolo qua poi possiamo mettere ancora possiamo mettere fare un altro albero quasi un altro albero ma lì ci sta ci sta secondo me andrebbe fatta un pochettino più alta l'isola tipo di uno no ma tanto va bene che così alla fine si li potremmo fare una mini casetta questo tipo qua e dai se riesci tipo come un sopravvissuto appena tempo che sto guardando un attimo qui c'è anche qualcosa di decente da metterli che potrebbe essere abbastanza interessante vediamo tipo qualcosa che sta cucinando carai che ci vorrebbero i pirati però sarebbe difficile da fare la nave andrebbe andrebbe fatta la nave oggi abbiamo due minuti lo sai ce la facciamo fare una nave e mezzo ce la facciamo una mini barca dici ci proviamo possiamo provare rischiamo noi in due minuti e mezzo ce la facciamo la facciamo piccina non facciamo un galeone ovviamente va bene proviamo tanto gli metto le zucche qui c'è il zucche ma i cose si riescono a piantare no com'è che hai messo i blocchettini piccoli non ce li ho aggiungeli tu l'ho già messo già messi anche lì allora abbiamo due minuti ce la possiamo fare fare una allora mettiamola qua una barchetta allora aspetta wood hai dimmi dire inizio e la fine faccio qualcosa facciamo così allora qua facciamo il dietro facciamo così la nave andiamo avanti così e qua la facciamo così così ok così e si alza in esterno sì no deve usare secondo me usiamo si può fare così si capisce che una barca questa all'incirca si no vabbè si vede che una barca aspetta però che dobbiamo farla larga metà non così mettiamo in mezzo l'albero esatto esatto tu fai l'albero in mezzo quando volevano ok questo ci vuole il cosa così aspetta l'est le scale l'albero in mezzo lo faccio con albero normale o legno standard no legno standard secondo me va bene intanto lo faccio così aspetta così si fa alto con il coseno in cima ok bisogna fare anche la la vela la vela se ce la faccio la vela vabbè si piglia la lana si si la lana bianca ok si fa tutto così aspetta ci metto anche le scale come si chiama a stare sì sì no aspetta le scale normali quelle a quelle normali di ma anche come si chiamavano quelle per salire in verticale non le stare cavoli sono le e non mi viene letter letter con la l ok ci sta trovando per dai così non è male aspetta l'ho buttata venuta l'idea venuta l'idea vediamo se riusciamo a fare una cosa ai 27 secondi si vediamo pool allora prendo la black bull qua così e faccio il cannone in qualche meno l'effettone che spara ai ok particolare l'esplosione e non si trova e altrimenti non puoi trovare troppo difficile trovare il tiro via ormai mai fatto vabbè dai vabbè comunque carino è qualcosa che ha fatto dove ci sta allora questo non ha fatto nulla di interessante allora questo ha fatto la nave dei pirati ma super l'ha fatto schifoso con un bottone lì in mezzo cosa mi rappresenta e non l'ha finito poi la porta no brutta questa è la finita super punto che ma se l'hanno fatto tutti così noi abbiamo stravinto e speriamo io ci spero che cara questo è cara di ragazzi questo ma è questo un po l'idea ce l'ha dato questa è la bella vita ai caraibi sì direi alla piscina no dai ok io sì no tec pensi era pupa perché comunque era una piscina in mezzo al nulla questo ha fatto delle mini isole dove prendere il sole perché bel modo di immaginarsi caraibi però vabbè pupa fa un post questo cos'è cos'è no scusate cos'è cos'è questa cosa qua ai panguini dei caraibi ma sono i panguini ci stanno pupa perché non so che cos'è questo voleva fare una cosa col tesoro no sì esatto io devo votare anche ok a questo qui perché tutto sommato il tesoro dei caraibi ci sta dai sì oh cosa gli ho dato non devo essere stare attento a cosa cosa voto perché mi sa che ho votato good e va bene questo ha fatto tipo la casettina gli alberi sono sbagliati no fatti punto questo ho fatto il pure la passerella con il gazebo non è malaccio però ok c'è però gli altri fanno un po schifino è si fa schifino ma non è malaccio questo no questo super pupa perché ha fatto tre isole ma impegno sotto zero questo cos'è un delfino una ciminiera non capisco guarda fuma ok non lo so vabbè non lo so veramente questo ha fatto un po di cose ma anche questo pupa un po meglio di prima ma ha fatto anche il tipo lui ha fatto tipo nomino qui un po morto sembra però le barchette questo è il nostro è questo cavolo con la tua vela lì è giusto è il best questo è con la scalettina anche tatti grande metano abbiamo qualcuno che e vinciamo anche di tanto e questo 96 punti tantissimo e però di poco si dal secondo 91 si vabbè poi l'altro 96 punti tutti hanno votato bene ok ragazzi come avete visto abbiamo sbancato e abbiamo anche vinto e quindi confermiamo che metano è un gran giocatore della build battle che bello come sempre vi ricordo il suo canale in descrizione e noi ci vediamo al prossimo minigame ciao